Salve, ancora grazie, grazie di esserci e con noi in studio Giuseppe Nobiretti, presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia e sindaco di Vieste. Sindaco di Vieste dal 2016, un'operazione molto forte all'epoca, una delle poche operazioni di rottura, di discontinuità rispetto agli schemi classici della politica. Nobiretti vince la prima volta, la seconda volta senza avversari, naturalmente rivince. E poi l'avventura, l'operazione che lo ha portato allo scranno appunto di Palazzo Dogana. Si ricandida, secondo mandato anche per l'amministrazione provinciale, la notizia è freschissima, sono state presentate le liste e Nobiretti ha deciso di giocare in proprio, di presentare una sua lista. Ora partiamo naturalmente da questo, dal significato di questa operazione, perché un'altra operazione, perché un'operazione, presidente, incardinata evidentemente su di lei. Era necessario, era necessario una sorta di duplicato, diciamo così, di quella lista civica che è come riferimento il coordinatore provinciale di CON, Rosario Cusmai, o è un'altra cosa, un'altra storia questa sua operazione? Ma io credo che sia qualcosa di diverso, perché è un voler mettere un po' di insieme altre anime del centro-sinistra che non si riconoscono né nel Partito Democratico e né in CON di Rosario Cusmai. E' un voler cercare di tenere tutti uniti verso, diciamo, un più efficiente governo del territorio, quindi potendo ascoltare anche altre realtà territoriali, perché queste persone che si sono candidate con me rappresentano altre realtà territoriali, e quindi era giusto che avessero anche una rappresentanza in seno al Consiglio Provinciale, al prossimo Consiglio Provinciale. Resino nel 2016, diciamo così, era un'altra cosa rispetto alla politica, invece la candidatura nel 2016, operazione vincente, che politica ha trovato? Visto che eravamo più o meno già alla fine della seconda repubblica. No, per me è stata un'assoluta avventura questa politica. Nato tutto con un gruppo di amici di Vieste, dove ci siamo, cioè venivamo da una situazione molto complessa a Vieste, dove ci siamo guardati tutti negli occhi, in faccia, e abbiamo deciso di rischiare, no? Perché poi non avendo struttura, non avendo partite, non avendo nessuno alle nostre spalle, è stata una cosa che è partita proprio da nulla, ma proprio perché la situazione lo esigeva, perché Vieste aveva preso una deriva molto pericolosa, tra delinquenza e inefficienza amministrativa, veramente stavamo per dilapidare tutto il patrimonio, anche a livello economico turistico di Vieste, quindi era necessario dare una scossa. E poi soprattutto l'abbiamo fatta anche per i nostri figli, perché veramente eravamo arrivati davanti al dilemma se vendere tutto e andare via, andare a vivere in un'altra città, perché la città era diventata qualcosa di indecente, sotto tanti punti di vista, e uno dei principali, oltre alla delinquenza, era quello amministrativo, dove effettivamente non c'era più un'amministrazione da anni, da decenni, diciamo, ma anche dal precedente sindaco, quindi anche da Domenico Antonio Spina, a poi dopo Ersilia Nobile, e quindi tutto era un po' alla deriva, quindi era tutto un po' lasciato andare, si ragionava solo di interessi particolari e non di interessi generali, quindi era necessario, ci siamo guardati negli occhi e l'alternativa era quella, o andare via dalla nostra città, o cercare di dare il meglio, quindi potevamo farlo solo noi, che eravamo la generazione di quarantenne, avevo 39 anni, quando sono stato eletto sindaco, quindi ci siamo sentiti di dover caricarci questo... C'erano dei modelli di riferimento, dei modelli di riappropriazione della cosa pubblica? No, 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 allora noi, faccio una premessa, io provengo dall'unica esperienza, diciamo, di carattere sociale, è stata quella dell'anti-racket, dove ho militato, dove milito ancora, perché sono ancora tesserato con l'anti-racket di Vieste, però non faccio più parte del direttivo ormai dal 2015, dalla fine del 2015, quando ho deciso di candidarmi. E quella aggregazione, diciamo, tra imprenditori, ma non solo imprenditori, anche professionisti, perché io facevo l'avvocato, sono ancora iscritto all'albo degli avvocati, e fu un esempio, no? Quello forse è stato l'esempio iniziale. Da lì dove il gruppo ha dato degli ottimi risultati, no? Per una causa, sposando una causa fondamentale, che era quella della lotta alla mafia, la lotta alla criminalità, lì abbiamo fatto i primi processi, dove ci siamo costituiti parte civile, dove andavamo con i pullman a dare manforte alle persone che erano state vittime del racket. Nell'aula, diciamo, delle corte d'assise di Foggia, avevamo di fronte, oltre ai detenuti, anche i parenti dei detenuti. Quindi sono stati momenti molto difficili, dove la paura la faceva da padrona. E quindi, diciamo, che quell'embrione, diciamo, di vita anche sociale, no? Di volersi dedicare alla cosa pubblica, da lì forse è scaturita l'idea in alcuni di noi di provare a mettere quei sani principi anche in un progetto politico, che poi è diventata via stessa e tu, che ha dato poi i risultati sperati. Ricordo sempre, per 50 voti la prima volta. E poi da lì è stato tutto uno specializzarsi, perché noi partivamo anche da non avere un'esperienza amministrativa. Quindi piano piano, con l'impegno, siamo riusciti a mettere ordine a tanti casini che erano stati fatti. Lì, Presidente, pensa che nell'amministrazione delle città, nel governo della cosa pubblica, abbiano ancora un senso, si possano ancora applicare categorie, criteri come quelli classici, destra, sinistra, oppure no? Ma io devo dire che ormai è tutto abbastanza stemperato, tutto abbastanza poco colorato. Cioè, né troppo rosso né troppo niero. Oggi io penso che nella pubblica amministrazione, soprattutto nelle amministrazioni dei comuni, si debba parlare di buona o cattiva amministrazione. Quindi competenza, capacità e fermezza, soprattutto. Perché a volte, per risolvere delle situazioni incancrenite, bisogna andare anche contro le stesse persone che ti hanno votato, che ti hanno sostenuto. Però se una decisione va presa, va presa a prescindere. Quindi io il colore politico non lo vedo tanto fondamentale, almeno nell'amministrazione dei comuni. Poi, se si sale di livello, e io già inizio a parlare di regione o Stato centrale, forse lì una colorazione ancora ha un senso di esistere. Lei nel 2016 vince, vince con il sostegno anche dell'attuale assessore regionale, già assessore regionale Raffaele Piemontesi. Ha sempre avuto un buon rapporto con il vicepresidente della regione. Perché non è entrato nel Partito Democratico? Io non sono molto, soprattutto nella gestione dei comuni, avvezzo a avere un referente provinciale che possa dettare la linea sul territorio. Io penso che la linea sul territorio la debba dettare quelli che stanno sul territorio. Quindi la capacità di saper delegare, anche a livello provinciale, di sapersi fidare degli uomini con cui ci si va insieme. E quindi questo fatto mi ha sempre tenuto lontano un po' dai partiti. Ma forse perché sono fatto io un po' così. Ma il PD, per esempio, secondo voi è un partito scalabile, contendibile? No, io non lo so se il PD è scalabile, però queste sono cose che riguardano il Partito Democratico, non mi riguardano. Io con il Partito Democratico ho un ottimo rapporto, un rapporto leale, però non ho un rapporto di sudditanza con il Partito Democratico. Io penso che insieme al Partito Democratico sia un partito fondamentale in questo momento in regione come in provincia. È un partito con cui bisogna lavorare. Ci abbiamo lavorato bene per tanto tempo, io quindi non vedo al momento problemi con il Partito Democratico, a meno da parte mia. Lei è considerato un outsider ancora sulla scena politica. Le faccio questa domanda perché in realtà a un certo punto lui dovrà prendere anche una decisione se naturalmente proverà a coltivare un'ambizione più grande. È anche vero che per oggi l'offerta politica è abbastanza, come dire, stantia. Cioè l'impressione che negli ultimi vent'anni, per esempio, non solo da noi, non solo in provincia di Foggia, ma in Puglia, si sia giocato solamente in una metà campo perché il centrodestra obiettivamente sembra, come dire, molto fragile nei suoi gruppi dirigenti, nella sua proposta politica complessiva, o sbaglio? Beh, il centrodestra non se la passa benissimo, devo dire la sincera verità. Ha bisogno di una classe dirigente che forse deve formare ancora. Per quanto riguarda il centrosinistra, ci sono degli spazi ben definiti, però la cosa positiva del centrosinistra è che comunque ha anche la capacità di aprire ad altri soggetti. Oggi c'è questo nuovo soggetto che non sa ancora che cosa deve fare dopo perché io sono abituato a ragionare un passo alla volta. Cioè oggi bisogna lavorare, poi bisogna lavorare tanto perché bisogna, io dico, esportare un modo di amministrare. Cioè quel modo di amministrare che se ne deve un po' fregare dei soliti cliché, del solito modo di operare, un po' clientelare. Bisogna guardare in alto, bisogna guardare un po' più, con un più ampio respiro. Quindi io sono di questa idea. Ci sono sindaci, colleghi suoi, primi cittadini che stima in modo particolare oggi? Beh, devo dire, ci sono dei miei colleghi... Esperienze anche di buon governo, naturalmente, di pocità. Devo dire, rispetto al 2016, quando ho iniziato, ad oggi, la classe politica della provincia di Foggia è migliorata. Questo lo devo dire, perché all'inizio ho avuto a che fare con dei sindaci un pochettino, un po' molto retro. Oggi invece abbiamo dei sindaci moderni che capiscono qual è il valore anche dello stare insieme, perché per esempio noi all'interno del Parco del Gargano abbiamo cercato di fare squadra. Adesso sto cercando di fare un po' squadra anche con gli altri sindaci della provincia di Foggia. Devo dire che ho trovato porte aperte un po' da tutte le parti, anche se uno non è proprio di sinistra, se non è di centro, ma anche con gli amministratori di destra ne sono pochissimi. Perché quando si mette al centro il territorio, io li vedo che sono molto propensi, come da ultimo la questione sui laghi di Lesine e di Varano. Non sono proprio amministrazioni vicine al centro-sinistra, però devo dire che c'è stata la massima condivisione, la massima apertura, perché l'obiettivo più importante è quello di salvare le lagune. Quindi a prescindere dalla propria estrazione politica vedo grande voglia di fare squadra. Cosa ha trovato a Palazzo Dogana, sede dell'amministrazione provinciale? Si aspettava una provincia... No, io ho trovato grande confusione a Palazzo Dogana, dove i ruoli non erano ben definiti, dove c'erano delle cose che andavano fatte, proprio l'ABC. Quindi ho trovato una grande confusione, dove il ruolo del dirigente, piuttosto del presidente, del segretario generale, era tutto abbastanza fuori posto. Quindi la prima opera, ma è la stessa opera che ho compiuto quando sono arrivato a Viesto. Ho rimesso un po' in ordine le cose, la scala gerarchica, come funziona o come non funziona, a dare anche autorevolezza alla figura del presidente, perché non aveva più quel ruolo che gli doveva aspettare, soprattutto con il riferimento ai dirigenti, se non per cose clientelistiche, che non va bene. Noi dobbiamo sempre porre al centro i problemi generali della provincia, quali sono. faccio un esempio su tutto, su tutti che è una banalità, cioè il fatto di non avere un'assicurazione, cioè noi non avevamo un'assicurazione per la responsabilità civile sulle strade. Questo ha determinato e determinerà ancora per i prossimi anni, perché purtroppo poi i sinistri arrivano con calma, cioè magari sono sinistri di tre, quattro anni prima. hanno determinato e determinano delle grandi, grandi somme che si vanno a scaricare sul bilancio, quindi di risarcimento danni, che giustamente dobbiamo corrispondere alle vittime, che ci vanno ad impoverire un bilancio già povero. Faccio un esempio proprio concreto. A dicembre abbiamo dovuto approvare un debito fuori bilancio che era rappresentato da una sentenza per un sinistro stradale di un milione e sette. Abbiamo dovuto pagare giustamente perché avevamo perso il tribunale. Tutto questo per non avere un'assicurazione che abbiamo fatto da settembre, dove spendiamo 300 mila euro all'anno. Quindi 300 mila euro all'anno però ci salvaguarderanno, soprattutto a chi verrà dopo, perché ahimè questa parte da settembre 2020, quindi per i prossimi tre anni siamo coperti per poi rifarlo, però mette un po' a riparo i conti futuri della provincia. Perché per la provincia di Foggia un milione e settecento mila euro, sul complessivo dell'anno circa due milioni e sei, vuol dire togliere tante risorse che potevano andare per le scuole piuttosto che per le strade. E su una provincia che ha 40 milioni di euro di entrate, due milioni e sei, è tanta roba. Certo. Senta, ma da un punto di vista generale, sulle grandi questioni che attengono allo sviluppo del nostro territorio, e con chi ragiona, Presidente? Cioè, su un tema generale, lei, per esempio, il tema dello sviluppo dell'offerta turistica, lei con chi parla? Ma io provo a interfacciarmi con... Ma io faccio una premessa, io ho buoni rapporti con tutti gli assessori regionali, quindi non ho... No, no, ma dico proprio sul territorio, nel nostro territorio, con chi parla? Con Confindustria, con me? Cioè, dico, c'è consistenza, c'è realtà in questo... Proviamo a regionare un po' con tutti i partner, diciamo, sociali, con i stakeholders, come si dice adesso. Però devo dire che, diciamo, il turismo mi sembra più una cosa relegata a Vieste, Peschici e Mattinato, in buona sostanza, San Giovanni anche. Mi sembra una cosa più di nicchia, dove un pochettino manca un sistema, una cabina di regia, che purtroppo aveva la provincia prima, perché aveva anche le competenze, oggi non ce l'ha più, perché ce l'hanno le regioni. E a volte, effettivamente, manca un pochettino il ruolo della provincia, ma perché statuteriamente non è più previsto. Io, nella sciagurata riforma del Rio, forse era una cosa che doveva essere lasciata in capo alle province, come, ad esempio, la Polizia Provinciale, che ci è stata tolta, quindi siamo senza braccio. Abbiamo la testa, abbiamo gli atti, possiamo fare... però poi ci mancano le braccia. Ma più in generale, che giudizio lei dà sul sistema della rappresentanza del nostro territorio, cioè sul mondo delle organizzazioni di categoria, delle associazioni produttive? Vede consistenza? Sabe perché le faccio questa domanda? Perché è facile sparare, ormai sparare contro i partiti, è come dire troppo, però l'impressione è che anche queste altre realtà siano obiettivamente scatole vuote o no? Ma a volte si pecca un po' di concretezza, questo lo devo dire. Io per esempio, una cosa che mi rimproverano molti, che i duemila convegni che vengono organizzati, io ne vado a uno o due, non di più. Ma vado a uno o due non perché voglio snobbare questi eventi che sono anche importanti. Perché se uno lavora, poi non ha tanto tempo per... siccome io penso che il Presidente debba fare la sua, quindi deve lavorare anche lui, non si può delegare proprio tutto, quindi a volte, secondo me, io farei meno convegne è più sostanza. E lui pensa di dover, di poter continuare a fare attività politica al di là del secondo mandato da Presidente della provincia? Non lo so, me lo sto chiedendo in questi giorni. No, vabbè, io, come ho detto prima, sono abituato a ragionare un passo alla volta. Adesso ho preso questo impegno per la provincia e voglio portarlo a termine fino alla fine del mandato. Vede competito lei? In che senso? Vede così, diciamo così, nel sistema politico della nostra provincia. Ma ci sono tanti bravi sindaci. Poi, è chiaro, adesso bisognerà vedere se la fanno, la riforma della provincia, se non la fanno. Ancora non è chiaro capire se poi andremo al voto con il suffragio oppure continueremo con questo sistema. Io questi due barra tre anni perché non sappiamo quando entrerà in vigore se la faranno e quindi se entrerà in vigore la provincia li farò come ha sempre fatto anche il sindaco, cioè con il massimo dell'impegno. Poi dopo si vede perché io sono abituato così. Non è che uno si autocandida nelle varie competizioni. Ti devono anche volere. quindi se avrò fatto bene sarà qualcosa di naturale. Se avrò fatto male è giusto che vada a casa che torni a fare quello che facevo prima. Che giudizio dà dell'operato del governatore di Michele Migliano? Il presidente è molto è una persona assolutamente in gamba è uno molto bravo è uno che sa come riuscire a tenere tutti quanti tutti quanti legati. Ci sono sicuramente delle cose estremamente positive che ha fatto la regione di Puglia in questi anni. Ci sono delle cose che forse bisognerebbe migliorare su alcune tematiche. Però poi alcune tematiche soprattutto quella sanitaria che è quella che sta un po' a cuore di tutti i pugliesi soprattutto anche quando parlo della mia cittadina perché qui nella mia cittadina spesso si confonde il ruolo del sindaco con quello del presidente della regione quindi si attribuiscono dei poteri al sindaco che non sono quelli della regione. però capisco che c'è un sistema paese che è entrato un po' in crisi quindi non è colpa del governatore Emiliano è colpa di una programmazione sbagliata fatta dai governi attuali e precedenti. Per esempio sulla sanità non aver previsto che nel lungo periodo avremmo avuto carenza di medici e quindi aver istituito un rigido regime di ingresso alla professione medica ma anche alla specializzazione e poi aver consentito una massiccia fuoriuscita dal mondo del lavoro attraverso la quota 100 è chiaro che ha determinato uno scompenso che oggi stiamo pagando ma non la paga solo la regione di Puglia la regione di Puglia la regione di Puglia la regione di Emilia Emilia Romagna quindi ma anche gli altri stati sono in difficoltà tant'è che vengono a fare scouting in Italia e capisco che alcune tematiche su alcune tematiche bisognava bisogna partire con una programmazione ma questo poi è necessario anche una una sorta di coordinamento regione-stato dove ognuno deve fare la sua parte bisogna guardare nel lungo periodo nel lungo periodo il sistema sanitario forse oggi è entrato un po' in crisi e qui i nostri cittadini vogliono delle risposte giustamente dalla politica ma dalla politica di livello alto cioè sicuramente non quella di un sindaco perché può fare ben poca cosa e a proposito di questioni anche più generali che incrociano livelli di governo diversi le faccio una domanda specifica su un tema che dovrebbe essere il tema l'accapo all'ordine del giorno di qualsivoglia amministrazione il tema dell'inverno del declino demografico di essere uno dei pochi centri che insomma messo meglio in provincia di Foggia noi pubblichiamo spesso interventi di autorevoli docenti che sostanzialmente sulla base dei dati istat dicono guardate che noi andiamo verso come dire un declino strutturale dal punto di vista demografico perché ci sono due parametri che vengono normalmente incrociati il parametro dell'età media di 48 anni il parametro poi del rapporto tra lavoratori e pensionati il rapporto uno a uno e i nostri comuni 61 comuni della provincia di Foggia alcuni già sono entrati in questa parabola discendente quasi tutti ci entreranno entro la fine del 2039 cioè è il vero tema questo non è solamente un tema della provincia di Foggia o del Mezzogiorno d'Italia è il tema italiano perché noi siamo il terzo paese al mondo dopo Giappone principato di Monaco che è il paese più vecchio insomma come mai non si costruisce una mobilitazione una massa critica più forte su questo tema ma io penso che tu hai colto nel segno perché questo sarà il tema dei temi perché questo è un problema molto serio e poi si acuisce soprattutto in territori come il nostro che sono più degradati rispetto ad altri veramente abbiamo c'è il serio pericolo che alcuni paesi spariranno a breve e non solo in riferimento alla provincia di Fagio non solo subappennino ma anche in realtà più grandi come quelle garganche dove i paesi sono un po' più grandi rispetto a subappennino è un problema molto serio dove chi ci governa dall'alto quindi il governo deve prendere atto e deve iniziare a mettere in campo anche delle strategie per evitare questa cosa quindi deve diventare prioritario nell'agenda nazionale poi chiaramente noi abbiamo anche un po' siamo noi perché ci diamo una narrazione del nostro paese sempre negativa quindi tutti vogliono fuggire dall'Italia noi formiamo tanti ragazzi universitari che poi diventano elementi in altre nazioni e le lasciamo andare la cosiddetta fuga dei cervelli ma non solo la fuga dei cervelli ma anche la fuga delle braccia di persone che devono fare anche lavori più umili ci opponiamo alle politiche di immigrazione ma oggi o si riprende una politica sulla famiglia quindi la possibilità da parte delle famiglie di fare più figli perché poi in buona sostanza si parla di questo ma bisogna mettere la famiglia al centro cioè la possibilità famiglia non in senso classico perché oggi ci sono anche le convivenze le coppie di fatto però bisogna dare degli strumenti agli italiani per poter tornare a sperare perché poi non si fanno i figli anche perché uno vede tutto negativo vede tutto negativo adesso come li devo mettere al mondo questi figli che cosa li devo fare che cosa li devo far fare è un tema serissimo è un tema sul quale da qui nei prossimi anni dobbiamo confrontarci sul quale è giusto che si inizi a parlare non solo che gli esperti ci diano chi ne sa più di noi ci dia una mano perché effettivamente sarà un dramma nei prossimi anni volevo chiudere con vieste visto che lei prima diceva di questa operazione dell'associazione antiracket la prima che nasce in provincia di Foggia un modello positivo celebrato anche dalle istituzioni proprio qualche giorno fa insomma ed è quello stato forse forse è stato il primo gesto di riappropriazione vera da parte della comunità di vieste io dico del suo destino perché io ricordo perfettamente quel triennio drammatico 2007-2009 dove davvero come dire sembrava che poi ce n'è stato un altro 2006-2018 dove non me la sono vista benissimo perché appena eletto ci sono stati dieci omicidi nell'arco di due anni e mezzo lei ha l'impressione che si sia come dire a vieste si sia voltata definitivamente pagina su questo Vaccaro il procuratore capo di Foggia è stato molto come dire ottimista ha parlato di alleggerimento della cappa estorsiva insomma ha una sensazione positiva anche lei oppure no? ma io su su vieste assolutamente sì ho questa questa sensazione perché diciamo vivendoci rispetto a quello quello che abbiamo passato è cambiata nettamente la percezione si sta molto molto meglio ci si sta molto più tranquilli poi dopo gli ultimi due arresti eccellenti di Raduano e Troiano veramente si è tornata a respirare perché per un periodo insomma un attimino l'atmosfera si era rifatta un po' pesante però l'ho detto anche qualche sera fa da vieste è partita qualcosa è partito io dico un vento il vento del cambiamento che è stato prima l'associazione anti-racket ma poi anche una classe politica diversa è quella che rappresento sul mio territorio c'è un modo diverso di fare politica questo vento che ha preso sta iniziando ad entrare anche nella provincia vi dico questo i primi pentiti sono di vieste e da lì poi a cascata sono arrivati i pentiti su Manfredonia scusami su Mattinata su Manfredonia adesso anche su Foggia la differenza che vedo è che la classe imprenditoriale su Foggia stenta a reagire ancora non vedo questa reazione la stessa reazione che c'è stata su vieste i cittadini ancora non li vedo come mai secondo lei forse perché non riescono a fare squadra perché noi anche noi all'inizio eravamo così poi quando parlo per l'esperienza personale quando la prima volta andammo a Vico del Gargano eravamo circa 15 persone allora quando incontrai lo sguardo degli altri imprenditori degli altri amici che stavano lì ha detto allora anche tu non paghi anche tu non paghi allora questa cosa di mettersi insieme è stata diciamo fondamentale perché un po' spersonalizzato cioè non era uno contro tanti erano tanti contro tanti e a Foggia questa cosa nelle altre città della provincia ancora non non riesce a germogliare questa cosa nonostante i tentativi attraverso l'associazione anti-racket di Foggia che devo dire è un embrione che rispetto alla precedente esperienza questa va molto meglio rispetto alla precedente però oggi con il fatto che da Vieste sia partito una sorta di un sorta di vento di cambiamento che abbia portato a cascata che stia portando a cascata anche delle operazioni di polizia giudiziaria molto importanti il pentimento dei Francavilla su Foggia sono cose molto importanti e questo forse può infondere un po' di più fiducia nelle istituzioni quindi anche Foggia può entrare nell'ottica che se si denuncia una persona non è che non succede niente se si denuncia una persona per estorsione ma veramente questa persona rischia di fare una brutta fine quindi inizierà a diventare meno conveniente essere criminali e più conveniente a stare dalla parte dello Stato Foggia potrà ritrovare la sua centralità come capogogo secondo lei beh questo dipenderà molto dall'attuale sindaca io nutro molta fiducia lì perché lì è entrata diciamo piano piano però c'è una tosta non è una che si fa mettere se lì riuscirà ad avere la propria autonomia ad essere dura perché poi capisco perché il consiglio comunale è molto più composito rispetto a una piccola realtà però se lì terrà duro io sono convinto che Foggia può trovare la sua centralità poi soprattutto anche in regione bisogna bisogna continuare a lottare per la nostra provincia bene noi ringraziamo Giuseppe Nobiletti sindaco di Vieste presidente dell'amministrazione provinciale Vieste è un modello di buon governo della città delle città e la dimostrazione è che il cambiamento è possibile anche nelle nostre comunità che si può ricostruire come è stata definita da altri più autorevolmente una repubblica delle città anche nel mezzogiorno d'Italia grazie ancora grazie a tutti